A mezzanotte scatta la zona rossa nelle province di Fermo e Pesero Urbino. Si esce solo con l'autocertificazione, un duro colpo anche per i negozi, le setiste e i parrucchieri. Rimane alto il numero di decessi nelle Marche, 13 le vittime in 24 ore, in aumento e ricoveri oltre 400 nuovi contagi. Ed ancora l'ospedale è strapieno, ambulanze in attesa per ore e pazienti dirottati in altri nosocomi. Giro di vite sui controlli in provincia di Pesero Urbino. A Fano TV parla il perfetto Vittorio Lapolla, che annuncia la stretta. A Fano il sindaco Massimo Seri lancia un appello alla cittadinanza. Zona rossa, da domani chiuse tutte le scuole di ogni ordine grado. Assicurate le lezioni in presenza per i disabili e aperti i centri diurni. Il punto con gli assessori del comune di Fano che rassicurano garantita l'assistenza domiciliare per gli anziani soli e non autosufficienti. Troppi assembramenti a Pesero raddoppiano le sedi per la vaccinazione anti-covid-19. Il sindaco Ricci si lamenta con Asur e Regione. Così non va, dal 13 marzo attiveremo anche una palestra. Al via i tamponi gratuiti per il mondo dello sport. Ex compagni gelosi e familiari aggrediti dai figli e nipoti ubriachi o tossicodipendenti. Fano, tre casi di maltrattamenti e minacce denunciati dalla polizia, due uomini e una donna. Sversamento di olio in strada, indagini in corso a Lucrezia di Cartoceto per individuare il responsabile. Il sindaco Rossi lancia un appello che ha visto qualcosa, si faccia avanti. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito a partire da questa sera, a mezzanotte. Dunque da domani nelle province di Fermo e Pesero-Urbino scatta la zona rossa. Diverse le attività che dovranno chiudere di nuovo i battenti. Il servizio di apertura è stato curato da Letizia Marchionni. A partire da domani anche la provincia di Pesero e Urbino, assieme a quella di Fermo, sarà in zona rossa come stabilito dall'ordinanza firmata ieri dal presidente delle Marche, Francesco Acquaroli. Fino a domenica 14 inclusa, quindi, saranno valide le disposizioni che la zona rossa prevede. Chiuse le scuole di ogni ordine grado, per cui sarà attivata la didattica a distanza al 100%. Restano chiusi anche i bar e i ristoranti, con asporto consentito fino alle 18 per i primi e fino alle 22 per i secondi. Limitati gli spostamenti, che saranno consentiti per motivi comprovati di salute, lavoro e necessità. Restano chiuse le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Chiudono i battenti anche le attività commerciali al dettaglio. Saranno aperte solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Tra le varie chiusure imposte dalla zona rossa, c'è anche quella che riguarda parrucchieri, barbieri, tatuatori e centri estetici. Un duro colpo per le attività, che però, come afferma l'estetista Barbara Landini, non intendono arrendersi. Già si vociferava la settimana scorsa che saremo diventate zona rossa e abbiamo anticipato gli appuntamenti. Noi solitamente lunedì è il nostro giorno di chiusura, abbiamo domenica, ci siamo date da fare, abbiamo contattato le nostre clienti. Quindi abbiamo aperto, lavorando tutta la giornata in orario continuato, soprattutto quei trattamenti che si fanno una volta al mese, perché diciamo che noi siamo specializzate per quello che riguarda i servizi di estetica avanzata. Quindi laser, ultrasuono focalizzato, sono trattamenti che si fanno una volta al mese, cercando insomma di anticipare un pochino, di non perderci il mese di marzo. Naturalmente abbiamo dovuto annullare gli appuntamenti e avvisare di conseguenza tutte le clienti che sono un po' dispiaciute di questa cosa, perché anche in questo periodo è molto difficile, perché dopo un anno si può dire che siamo nella stessa situazione. Venire qua, prendersi del tempo e una coccola per le persone, diciamo, che ci siamo rese conto che è una cosa che piace. L'emozione che proviamo in questo momento, ha spiegato Barbara, è di sconforto, ma cercheremo comunque di sfruttare al massimo questi giorni di chiusura per organizzarci al meglio per la prossima riapertura. È stato tutto molto veloce, non abbiamo avuto tempo di pensare. Sicuramente per noi il danno ci sarà, perché questo è il periodo dove noi iniziamo a lavorare sul corpo in previsione del periodo estivo. e già a febbraio avevamo iniziato a fare diversi programmi per quello che riguarda il corpo e anche i trattamenti al viso. Insomma, sono dei mesi per noi molto importanti. Il nostro motto è quello di non mollare mai, non si molla mai, quindi nonostante la zona rossa non ci scoraggiamo, anzi cerchiamo di prepararci, insomma, quando sarà il giorno dell'apertura, di ritornare belle cariche e piene di novità per i nostri clienti. E sono 13 i decessi che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore legati al coronavirus. Tra le vittime c'è anche un uomo di 85 anni di Mondolfo. I contagi rilevati nell'ultima giornata sono 423. La provincia più colpita rimane Ancona con 128 casi. Negli ospedali della regione ci sono 5 ricoveri in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 103, mentre quelli in semi-intensiva, in leggero aumento, sono 189. Intanto proseguono le vaccinazioni, la regione Marche è prima in Italia per le dosi somministrate in percentuale agli abitanti. E l'ospedale di Torrette di Ancona è strapieno, tanto che il primario del pronto soccorso ha scritto al 118 dicendo che non era possibile accettare altri pazienti che sono stati dirottati altrove. Al polo di Torrette, che fa parte dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove ambulanze sono rimaste in attesa per ore per poi trasportare i malati in altri nosocomi, sono ricoverati oltre 140 pazienti Covid, tra terapia intensiva, semi-intensiva e reparti non intensivi, su oltre 700 pazienti Covid in tutte le Marche. La direzione, si legge nell'Ansa, sta predisponendo nuovi posti letto, ma la situazione è ancora di massima emergenza. Alcuni malati sono stati trasportati a Civita Nova Marche. Vertice in Prefettura a Pesoro sui controlli che verranno rafforzati in tutta la provincia. Questa mattina Angelica Panzieri ha fatto il punto con il prefetto Vittorio Lapolla. Più controlli sulle strade e rafforzamento del numero di pattuglie su tutte le principali arterie dei comuni interessati. Da domani a domenica, 14 marzo, la provincia di Pesaro Urbino si tingerà di russo. Così il prefetto Vittorio Lapolla, davanti alle telecamere di Fano TV, annuncia quali strategie adotteranno in vista della nuova ordinanza regionale. L'attenzione, come è sempre stata, verrà dedicata all'intero territorio provinciale. Ovviamente ci sono i centri della costa, Pesaro e Fano in particolare, o il comune con capoluogo Urbino, che richiedono una maggiore attenzione, se non altro perché sono interessati da movimenti di persone sicuramente maggiori rispetto a quelli di altri centri. Con l'entrata della provincia di Pesaro Urbino nell'area rossa troveranno applicazione tutte le limitazioni previste per i territori che entrano nella zona rossa, sia riguardo agli spostamenti, sia all'apertura delle attività commerciali, sia riguardo all'apertura delle attività dei servizi alla persona. Tutti gli spostamenti individuali dovranno essere necessariamente autocertificati e potranno avvenire nell'ambito di quelle cause derogatorie previste dal DPCM, spostamenti dettati da situazioni di necessità. Il solito appello che faccio ai cittadini è quello di, ancora una volta, mostrare grande senso di responsabilità all'auspicio di tutti noi e che, diciamo, con questo ulteriore sforzo, ulteriore sacrificio, si possa, nel breve periodo, tornare ad allentare le misure ad una situazione di normalità. E un appello alla cittadinanza arriva anche dal sindaco di Fano, Massimo Seri. Dall'entroterra alla costa aumentano i contagi anche nella provincia di Pesaro Urbino. Secondo i dati diffusi dalla regione, a Fano si registrano 272 casi e ad oggi 461 persone sono in quarantena. In vista del provvedimento firmato dal governatore Francesco Acquaroli, che dispone alla zona rossa dalla mezzanotte, il sindaco Massimo Seri ha lanciato un nuovo appello alla responsabilità. La regione ha adottato queste nuove misure restrittive, ovviamente su degli elementi oggettivi, perché non dobbiamo nascondere che il tendenziale, cioè l'incremento nella nostra provincia rispetto alla settimana precedente ha avuto una crescita di quasi il 50%. Anche se i parametri ministeriali che danno 250 positivi a ogni 100.000 abitanti, il nostro è leggermente sotto, ma è il tendenziale che è l'elemento che preoccupa. E allora mi sento di dire questo, io mi rendo conto che queste misure sono un disturbo, creano difficoltà, creano disagio, creano danni a chi fa certe attività. A maggior ragione non dovremmo sciupare questi momenti, tenendo anche noi dei comportamenti di grande responsabilità. Perché ho visto anche nei giorni scorsi, nonostante i rinnovati appelli, sempre delle persone in assembramenti, con le mascherine giù, quindi queste cose evitiamole. Non sciupiamo queste occasioni, che sono momenti di restrizione che ci devono servire per non intervenire ancora in maniera più forte successivamente. È chiaro che siamo in attesa di avere anche un maggior numero di vaccini, le vaccinazioni sono iniziate su alcune categorie, perché quello è il vero strumento per combattere questa pandemia. Se riusciamo entro la fine estate a fare vaccinare la maggioranza della cittadinanza, sicuramente ci ritroveremo in una situazione nuova e normale. Però in questo momento, pur nelle difficoltà, pur nelle restrizioni, mi raccomando di mantenere questi comportamenti responsabili. E rimaniamo in tema di controlli e di indagini. La polizia di Fano ha denunciato due uomini e una donna per violenze e maltrattamenti in un caso, anche per tentata rapina nei confronti di un familiare. Sentite. Aggressioni fisiche, continue minacce, sopra fazioni psicologiche, sono le violenze subite da tre donne che hanno deciso di rivolgersi agli agenti del commissariato di Fano diretto dal dirigente Stefano Seretti. Da tempo, infatti, subivano questi atti che avevano provocato in loro uno stato d'ansia per la propria incolumità e per quella dei familiari, così forte da indurle a cambiare radicalmente le abitudini di vita e a contattare la polizia di Stato. Un'istituzione che pone da sempre particolare attenzione al fenomeno della violenza di genere con un grande impegno di prevenzione e di repressione. In tale contesto, il commissariato ha avviato di recente la procedura del Codice Rosso e in tre casi sono stati denunciati due uomini e una donna residente a Fano. Il primo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti verso i familiari e di atti persecutori e danni dell'ex convivente. La donna, da circa due anni, subiva, con il figlio minore avuto da un'altra relazione, le vestazioni fisiche e psicologiche da parte dell'indagato che, spinto da un irrefrenabile sentimento di gelosia, ne controllava in modo asfissiante sia gli spostamenti che l'uso dei dispositivi telematici per poi reagire con minacce, privazioni e aggressioni rivolte anche verso il ragazzo. Sulla base delle indagini effettuate dall'ufficio anticrimine che si avvale di un'unità specializzata per le violenze di genere, il Tribunale ha emesso nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento alle due vittime. Ma nonostante il provvedimento, ha continuato a seguire la ex anche appostandosi nelle vicinanze del luogo di lavoro. A seguito delle ulteriori attività investigative, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato condannato dal Tribunale di Pesora a due anni e sei mesi di reclusione. Per questo, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica, gli agenti del commissariato lo hanno portato nel carcere di Villa Fastigi. Nel secondo caso, invece, un'anziana fanese è stata aggredita brutalmente in piena notte dal figlio ubriaco che viveva con lei. La donna, nonostante stesse dormendo, è riuscita a reagire con la forza della disperazione, sfuggendo all'aggressione e rifugiandosi da un vicino. La pattuglia del commissariato, giunta tempestivamente sul posto, ha sorpreso e bloccato l'uomo mentre tentava di accedere all'appartamento del vicino. La madre, ferita e gravemente scossa, è stata soccorsa dai sanitari del pronto soccorso e poi accompagnata in una struttura di accoglienza sicura. L'autorità giudiziaria, invece, ha emesso un'ordinanza di allontanamento dall'uomo dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla vittima. Nel terzo caso, infine, un'anziana in preda alla disperazione ha richiesto l'intervento dei poliziotti segnalando di essere stata aggredita fisicamente dalla nipote tossicodipendente. È emerso che quest'ultima, forse in preda a una crisi di assinenza, dopo aver invitato la nonna ad un appartamento in una zona periferica di Fano, l'aveva aggredita tentando di strapparle la borsa. Ma grazie all'intervento di un passante si è data la fuga. Le indagini hanno permesso di far luce sull'episodio e di far emergere la condizione di pesante soggezione dell'anziana che da diversi mesi veniva intimorita dalla nipote anche con minacce diretta al nonno, gravemente malato. La donna, inoltre, era costretta a consegnare alla giovane circa 200 euro al mese. La ragazza è stata quindi denunciata all'autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina e di estorsione continuata, con conseguente emanazione nei suoi confronti della misura del divieto di avvicinamento alla nonna. Ed ora ci spostiamo nel comune di Cartoceto dove dell'olio sversato forse da un mezzo pesante in diverse strade di Lucrezia ha provocato un incidente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il responsabile e il sindaco Enrico Rossi ha lanciato un appello ai possibili testimoni. Sono stati impegnati per diverse ore la polizia locale di Cartoceto, i carabinieri di Colli al Metauro e gli addetti alla pulizia delle strade nel tratto di via Flaminia all'altezza del semaforo dell'incrocio con via del Casello fino a Ponte Murello per rimuovere sul manto stradale della fuoriuscita di olio proveniente, secondo una prima analisi, da un mezzo pesante. Il fatto è accaduto nell'orario che va dalle 13 alle ore 15. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che oltre aver visto la situazione ha lanciato un appello per rintracciare il responsabile. Sì, c'è stato questo sversamento un tratto di olio presumibilmente, ma è soltanto un'ipotesi da un trattore agricolo o forse anche da un mezzo pesante in alcune vie cittadine di Lucrezia, via Casello, via De Amicis e via Foscolo per l'esattezza, ma soprattutto che ha interessato il tratto di via Flaminia lato Fano. Mi sento in dovere di fare un appello agli residenti, agli abitanti di queste zone affinché se avessero ovviamente visto un mezzo pesante piuttosto che come ho detto prima un trattore agricolo in difficoltà magari sarebbero sicuramente utili come informazioni a ricostruire l'accaduto. La Polizia Municipale e i Carabinieri sono già al lavoro ovviamente per cercare di ricostruire l'accaduto e quindi di risalire al responsabile. Ancora Sanità a Pesaro raddoppiano le sedi per la vaccinazione anti-covid-19 perché così non va ha commentato il sindaco Matteo Ricci l'avevamo già detto all'Azur e alla Regione ha proseguito il primo cittadino sono necessari da subito più punti per garantire che il servizio sia svolto in sicurezza per questo in attesa che l'Azur attivi le altre sedi tra cui quella interna all'Iperrossini da sabato 13 marzo Spiegaricci attiveremo anche la palestra di via Pasolini nel quartiere 2 a 300 metri dal centro sociale 900 e sempre a Pesaro dopo lo screening fatto agli alunni e al personale scolastico sono previsti tamponi gratuiti al mondo dello sport è l'operazione sport sicuro voluta dal comune che prevede circa 3.000 test antigenici rapidi ma tutti i dettagli sulle modalità di richiesta dei tamponi li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it e adesso parliamo di scuole perché nonostante la zona rossa imponga la didattica a distanza al 100% per alcune tipologie di studenti sarà comunque possibile fare l'attività in presenza a partire da domani le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse e sarà attivata la didattica a distanza al 100% un provvedimento che rientra nell'ordinanza firmata ieri dal presidente delle marche Francesco Acquaroli che pone le province di Pesaro e Urbino e Fermo in zona rossa tuttavia ha fatto sapere Samuele Mascarin assessore ai servizi educativi del comune di Fano per alcune tipologie di alunni ovvero quelli diversamente abili o con bisogni educativi speciali sarà garantita l'opportunità di proseguire alcune attività in presenza questo ovviamente è un servizio che garantiremo nelle scuole dell'infanzia comunali così come garantiremo nelle scuole dell'infanzia comunali ma anche in quelle statali e nelle scuole primarie statali che usufruiscono di questi servizi anche dei servizi di riflessione scolastica e di trasporto scolabus ovviamente per queste tipologie di alunni nel caso in cui siano già fruitori di quei servizi questo è un modo di applicare in maniera piena e coerente quello che consente in particolare il DPCM del 2 marzo ed è un modo in qualche modo anche di dare una risposta ai bambini alle famiglie che potrebbero essere maggiormente in difficoltà in questa fase ovviamente attendiamo anche noi quello che è stato annunciato dal governo nazionale cioè un nuovo DPCM nei prossimi giorni che probabilmente potrebbe modificare alcuni elementi organizzativi e che chiederà un aggiornamento anche da parte nostra ovviamente come sempre interverremo anche con delle comunicazioni tempestive e cercheremo in ogni modo ovviamente di fare la nostra parte in questo momento così complesso e difficile e al nostro telegiornale parla anche l'assessore a welfare Dimitri Tinti che rassicura i familiari delle persone diversamente abili sulla continuità dei servizi a loro dedicati voglio rassicurare voglio rassicurare le famiglie soprattutto quelle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo persone con disabilità importanti ad esempio coloro che soffrono di disturbi dello spettro autistico perché capiscono la loro pressione la loro preoccupazione però proprio stamattina ci sono state diverse riunioni dell'OSES cioè dell'unità operativa sociale e sanitaria che vede insieme ambito sociale e distretto all'interno dello stesso ambito prima i tecnici e poi abbiamo condiviso anche con tutti gli altri sindaci dell'ambito sociale 6 le indicazioni sono queste i servizi rimangono aperti dove il più possibile e cioè i centri di urni i centri socio-educativi e residenziali per disabili rimangono aperti fino a sabato i servizi di educativa domiciliare per disabili continuano e in queste ore si stanno contattando le famiglie per capire se sono disponibili a continuare se non lo fossero viene riconvertito il servizio con modalità da distanza modalità da remoto i servizi di educativa domiciliare per minori che rientrano nel progetto PIPI delle famiglie che rientrano nel progetto PIPI continua sempre se le famiglie sono disponibili il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per i disabili a scuola continua secondo le normative previste dal DPCM il servizio di assistenza domiciliare per anziani o per persone non autosufficienti che non hanno una rete parentale di sostegno continua in altri casi invece si mette a disposizione altri servizi come il sostegno alla spesa all'acquisto di farmaci e quant'altro vengono sospesi i tirocini di inclusione sociale nei luoghi di lavoro dove le attività sono state sospese e quindi abbiamo e davvero mi rivolgo alle famiglie cercando di mantenere il più possibile aperti i servizi contemperando da una parte la tutela e la sicurezza dei cittadini soprattutto di quelli più indifesi e dall'altro cercando di capire e di comprendere la gestione familiare soprattutto delle famiglie che hanno al proprio interno persone disabili EASET SPA fa sapere che a partire da domani i centri di raccolta differenziata di Fano Pergole e Calcinelli di Cogli al Metauro resteranno chiuse al pubblico per tutto il periodo di permanenza in zona rossa sospeso anche il servizio fornito dal centro ambiente mobile comprese quindi le date in calendario per il fine settimana in tutti i comuni in cui è previsto e cioè Fano Fossombrone e San Costanzo tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è condotta da Paolo Notari protagonista la solidarietà con Selena Abatelli che a Iesi in una superficie di oltre mille metri quadrati ha realizzato la fattoria dei sogni grazie per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia l'informazione torna domani mattina con Occhio ai giornali buona serata a tutti voi a tutti i nostri